Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot.chiocciolaocchiopavese.it che riparti con noi, che riparti con occhio pavese. Se Milano al boschetto di Rogoredo, Voghera a piazza San Bovo. I giardini a due passi dal centro storico sono diventati punto di incontro tra spacciatori di tutte le etnie e consumatori vogheresi e non di stupefacenti. Ascice marijuana ma anche cocaina ed eroina vendute sotto gli occhi dei passanti, dei pochi bambini che frequentano il parco giochi adiacente e, dice chi la piazza la frequenta ogni giorno, delle forze dell'ordine. Un'odissea per chi abita in piazza San Bovo ma anche per i commercianti, stanchi di assistere a situazioni di estremo disagio e ormai fermamente decisi a portare la questione nelle stanze di Palazzo Gunela. Signor Mulato, lei è titolare del centro dentistico San Giorgio, proprio qui in piazza San Bovo. Ci vuole raccontare prima di tutto la situazione com'è ad oggi? Beh, negli ultimi due giorni è migliorata leggermente, ma fino a due giorni fa era insostenibile. Sporcizia da ovunque, gente che faceva il matto urlava e ne combinava di tutti i colori. Al mattino presto che si cambiano e si mettono le mutande qua davanti e ne combinano di tutte. A sette e mezza del mattino che bevono birra e bevono vino. È un disastro allucinante, gente che suona il campanello per entrare e chiedere ai pazienti un euro o la sigaretta. Mercoledì scorso c'era il mio staff in sala operatoria, è entrato uno dietro a un paziente e è arrivato fino alla sala operatoria urlando come un matto per avere una sigaretta o un euro. Io così non posso andare avanti, farò come tanti altri negozianti che hanno dovuto spostarsi la loro attività perché è un macello. La sera dopo le 19 arrivano spacciatori di un po' tutte le etnie, ubriachi che lasciano bottiglie in giro, ogni tanto si azzuffano tra di loro. La paura dei cittadini che stanno descrivendo hanno paura ma è eccessiva perché se passi e ti fai affari tuoi questi neanche ti guardano. Più che altro dopo il presidio di Casa Pound ho notato che c'è stata maggiore frequenza di forza dell'ordine, maggiori controlli e quindi è andata via a diversa gente di quella che importunava le zone qua. Da voci che arrivano si sono concentrati più nelle zone di Piazzale Quarleri e nelle zone della stazione. L'interesse dell'amministrazione nei confronti del degrado di Piazza San Bovo ha permesso ai commercianti di ottenere un incontro con il sindaco Carlo Barbieri previsto per venerdì 20 ottobre. Io chiederò una soluzione ma una soluzione drastica e non mi sta bene neanche che vengano magari spostati da un'altra parte di Voghera perché il problema poi sarebbe sugli altri cittadini e questo non va bene assolutamente. Chiederò che veramente comincino a fare iniziative per Piazza San Bovo perché finora una persona che fa parte del Consiglio Comunale è venuta qua a dirmi cosa hanno in progetto. Io risposto semplicemente dimostratelo perché è solo parole e adesso basta, è ora di fare i fatti. Parlando con Fabio Quilini abbiamo deciso che questa gente qua devono trovare un'accoglienza diversa e non essere spostata da una parte all'altra perché il problema se no non si risolve. È una cosa indecente, purtroppo in questo parco qua non ci viene quasi più nessuno proprio per quello che fanno dagli accoltellamenti alle botte, alle urla, a qualsiasi cosa. Cioè gente che sembra che lo faccia apposta quando passano dalle donne perché qui c'è un parco giochi con i bambini si mette in mutande e si masturba o fa finta di toccarsi. Non va bene questa cosa. Persone che va in giro, abitanti della zona che escono, chiedono permesso perché gli fanno istruzione e loro li mandano a quel paese. Cioè è qualcosa di insostenibile ma di tutti i commercianti qua intorno. Ho avuto l'appoggio di tutti perché sono terrorizzati, sono terrorizzati. Abbiamo gente, delle donne che chiudono la sera alle 8, che sono costrette a chiamare il marito per venirle a escortare a casa. Devono fare 20 metri. L'unico episodio un po' cruento è stata una persona che è stata accoltellata e purtroppo è morta dopo un paio di mesi. Se no c'era qualche risa tra gli soliti clochiare disperati che giravano qua per la zona. Qualche volta si prendevano bottigliate e è stato fatto un danno alla casa dell'acqua spaccando praticamente quella vetrata lì. Ma più che altro risse tra di loro. I commercianti, molti dei quali hanno preferito non comparire davanti alle telecamere, chiedono l'amministrazione e l'organizzazione di eventi musicali, mercatini, spettacoli per bambini ed altre manifestazioni che permetterebbero ai vogheresi di riappropriarsi della piazza. Finché non si fanno veramente iniziative per ridare vita a piazza San Bovo, per riportare gente in piazza, è solo un pagliativo. Purtroppo o per fortuna qua davanti c'è anche la Caritas dove gli danno da mangiare eccetera e al mattino già alle sei e mezza, sette sono qua davanti. In una struttura che sinceramente se si entra dentro si ha vergogna di essere degli italiani, non c'è igiene, non c'è niente e questo non va bene ragazzi. Almeno per quello che mi riguarda è inaccettabile una situazione del genere. Oltre a quelli che si fermano a dormire sulle panchine, perché purtroppo di notte dormono su queste panchine. Lei ha detto che i commercianti se ne vogliono andare e lei per primo potrebbe eventualmente valutare questa ipotesi e addirittura poi i locali rimangono vuoti e i proprietari dei locali... Non riescono a affittare, ci sono dei locali vuoti e non riescono a affittare perché quando vengono qua e vedono la gente che è parcheggiata qua davanti, la gente non affitta più i locali. Adesso perché è inverno si spostano di là perché è un po' più caldo, ma d'estate col fresco e con queste piante qua si mettono qua ed è un disastro. Ma gente che magari in 20-30 si mette con le pentole e si mettono a mangiare qua davanti, lasciano sporco dappertutto. Ho i miei pazienti, ho alcune donne anziane che mi telefonano se posso venire fuori a scortare dentro. Io purtroppo faccio, il mio staff fa anche purtroppo degli interventi in sala operatoria e quindi se partiamo già con la mentalità che le persone sono terrorizzate quando si trovano in sala operatoria hanno ancora più timore. E questo non va bene, dobbiamo pensare alla salute dei pazienti per quello che mi riguarda. Gli altri negozianti potete guardare voi, non va dentro nessuno a causa di questo. E sembra quasi che questo rione qua sia evitato dai vogheresi. Ma vi faccio portavoce di tutti qua intorno, ma proprio di tutti. Ho persone che non sono negozianti ma anche abitanti di questi che sono terrorizzati. Qua la sera si riunivano le signore di una certa età e facevano quattro chiacchiere. Sono terrorizzati a uscire da casa adesso. Non è bello. Non facciamo una bella immagine proprio per niente. Fabio Quilini, leader del Movimento Civico Italia del Rispetto. Buongiorno, ci siamo visti l'ultima volta in piazza San Bovo il 30 settembre. Da allora cosa è stato fatto? Sì, buongiorno. Ma in queste settimane io ho voluto spostare un attimino l'attenzione dai residenti ai commercianti. Per una ragione molto semplice. La politica la faccio per hobby, la faccio per passione, ma come lavoro faccio il commerciante. Di conseguenza sentire e riconoscenza di queste problematiche mi sono sentito in dovere di fare qualche cosa. Piazza San Bovo da sempre è sempre stata considerata come un punto di degrado, ma si è sempre coinvolto i residenti. Non si è mai parlato dei commercianti. Ho voluto, grazie al signor Daniele Mulato, che si è fatto portavoce e mi ha contattato dei commercianti di piazza San Bovo e grazie a voi come televisione, di sensibilizzare questo disagio. Il disagio di un quartiere degradato nei confronti dei commercianti. Ecco, molte delle persone che sono qui a bivaccare stanno sopravvivendo a situazioni di estremo disagio personale. Com'è possibile aiutarli, secondo lei? Beh, partiamo dall'origine del mio movimento, con il termine rispetto. Rispetto ovviamente è rispetto nei confronti delle persone, quindi è più che giusto quello che è stato detto. Infatti vorrei dire, degrado fondamentalmente condiziona le persone a una paura, come ha detto prima il signor Mulato, ma la paura condiziona la non libertà. E questo credo che sia il messaggio più importante che io vorrei comunicare all'amministrazione. Una non libertà del commerciante di poter esercitare il suo lavoro, ma anche la non libertà di alcune persone che sono costrette a dormire sulla panchina e a mangiare nei giardini. Quindi io sono dell'avviso che secondo me rispetto è accogliere le persone, ma una volta che sono state accolte dagli una dignità di essere umani. Venerdì ci sarà anche lei all'incontro col sindaco? Se il sindaco mi lo permetterà e mi inviterà, sono ben contento come promotore di questa iniziativa. Nel momento in cui non sarò invitato dal sindaco, sono contento che abbia deciso di incontrare i commercianti e possa trovare una soluzione in merito. Grazie mille. Grazie a voi.